Tiki tiki, però sicur' non sta Llegando a fin d'anno, avui noci di un fashionista Nella vista, un dia a più, noi stavano visitare Graficos, di un'altra banda. Graficos Ho ricevuto una collezione tremenda di paia Tanto casual, deportivo, ma anche elegante Però prima che noi stavano i Graficos Voi stavano per voi, stavano una scarletta parà Well, mi stavano fraggantica Dice che mi deve contare ma stavano fraggantica Però ora qui, va a Graficos con me Naturalmente, nos modelos di Graficos Tavai legato un miratore in lo che collezione con un team In di noi, i dores, tavai donna etepna, valioso Vabbò per usare e pagina anche di che ho calcio, quante accessorio, che tipo di maquillaje, che tipo di sapato Tutto il paquete per voi per luci necci Graficos Buona notte Nina Buona notte Doris Buona notte televidenta Buona notte Edizione nuovo di fashionista na vista Noi sono una fragante che aveva sobrato un negoci nuovo. Mi invito a tutti voi che vi all'incoci e vi all'incoci e vi all'incoci e vi all'incoci. Vi all'incoci e vi aspetta. L'incoci e vi all'incoci. L'incoci e vi mostri i grafici. graficos ave non sta nella edizione numero 7 mi saco bo santa ancra di lante televisione pa mira tur lo che non stimpa ofrecer ave nabo paia non è stupendo come posso un escovo grande hai na graficos ave non sta direttamente foi peter maimol na fragantica abono queda sem passa colone non è stupendo colo non cota queda largo riba bu curpa bau a picco tour nos sticc ave di un fashionista pa ofrecer una bozza Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. la nostra questa è Misha con un vestito di robe femminile, la robe della moda, cercare la riba, rancho a bo, quindi come può vestire per differente occasioni. Misha, nel caso qui, è con la cara, la cara di artista, robe bonita, con flor, con raias, però tutto è stile. Possiamo vedere la largura della robe, la bollare, questa è una robe elegante, questa è una robe buona per mangiare in cima, e un piccolo, con una robe bella, e sovra una buona questa è se. È evidente la maniera che siamo pure a Misha, Misha con un chiamato di anni, che si può essere in moda, è un chiamato che la nostra è sincero, E' così buo, ti bemmo, ma sionglo, come sta? E' poi ne vuoi luci. Ora che hoppe a una fiesta non ti un tema, una invitazione a una fiesta, che tema qui, volta che da a pari. Per alzare il livello di buo futuro e per creare buo visione. Un deseo votare in vita, senza importare quale aspira a un destino voti. Voti un partner con il tuo cubo arriva a un viaggio per l'opportunità più grande. RBC Royal Bank, it's all about you. Miner, miner, mi mister diseng, mi famiglia, mi fujofo, mi flishtelta, plopasci, no ti nada di comi pa nang. No preoccupavo, Cariben Cash, tasa cabo fujberta. Mene, miner, mi fujofo, mi fujo seng i mani, a tutti i mesi, miner? In 30 minuti voti mo se. Mene, 30 minuti? Mi te pare qui non guardi buo, miner? Cariben Cash, te solucioni. Posso andare volvere a miramishan? Wow! Canchi sta nella moda. Posso andare a cruzar, cruzar di esce mis, combina con su sapato, e di dos traje, è completamente femenino. se vota un muere femenino, viste algo assim. E feiter, è un ticc sexy, ma non di mas. E sapato, quella chosco. Feiter, tambi, è da quede completamente bonita, adoro, è un estilo DJ. Voi ti un bautizzo, voi ti un matrimonio, di esordi ma inta, viste un vestido di canchi, off-white, pa accompagnavo, amiga, pa casa. E' da moderno, è un ticc mas cortico, però se voti è curpa, che voi por, a for un tipo di paia, così è. E' da quede hopi, bonita, adoro elegante. Voi venire a Crown Automotors a Hyundai. Crown Automotors a Hyundai. Mi chà, mi chà t'abbai yendo a una fiesta con un vestido verde, ma chà bonita mes. Corra si, si vò t'abbai una fiesta di traball, mi t'ai un ticc a bripa e o caixonei. Antò, è no t'abbò, pa bò companheiro di traball, e t'abbò assina sexy, però vò t'abbai con voi casà, con voi frey, con amigunan, è perfetto. Antò, si vò t'abbai un pezzo grande, no hazi, no viste, è tipo il paia qui, pa sobra, vò t'abbù sono ticc di mas. E la compagnie è pistin, e t'abbò un fai d'orato metàlico. Sapato, vò viste con un sapato bè, coloro oro, si t'abbò un fiesta, ma l'ugà a brì, viste un sandalia, guarda con il nostro vivano tròpico, quindi la sandalia è parte di un accessorio del nostro clima. La nostra vita è stata, ho detto a me, con il coloro che è in mondo, verde, sushis, vò t'abbè, combina con una cosa di oro, è un chimico, per certo, un zip per lomba fu, è un chimico, non è un po' di più, è un po' di più, ma l'abbò, vò t'abbò che è più sexy, vò t'abbò un asparaco e due, vò che va a un cammino, in vita show, vò come Pasco, vò al tricentro, vò che llega, vò arriva, vò sota queda a par, vò t'abbò, 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 E mi pensa. Au, tu mi infiridusi. Mi saque te passa, però è la regla. Textura, un man finanziario va entero. Domino's, è il mio sabor. E mi scopo che, entrega a me da bota, take out of nel ristorante. Buo pizza preferi, Domino's Pizza. De nuovo, mi sa. Con un vestire preto, esse nunca è po' falla. Dembo vestire, corda, tiene diferentes estilos. Tem, foi vestire pa' casa, e ora va a fare il recepso più elegante. Mi saque, ti ha un manga largo, con la roba in moda, la decorazione è nella sua manga. Quindi, corda, non mi sembra un recepso di trempare mai. Vai a nocci, va a lombra un tic, è un tic di più, per parte di meridia. Preto, preto, preto. Un moe non può chiedervare un paio preto dentro del caos. Nota sì che è di sì. Quindi, questo è State più elegante. Vorremmo un nuovo schismi. Un schismi full preto, un manga largo, con una stessafpsolina, in più. Un manga è attimata, la roba è fina. Quasi risalte, ho potuto, ho a prendere, ho un mese, come costano sempre per la nostra vita. Un moe di mania, un cambiamento di più, e poi si può fare un po' di nuovo. Non è caso che la miscia non si può essere abri, ma ora si può essere più lungo, ma non si può essere più lungo, ma non si può essere più lungo, ma non si può essere più natural. La miscia è buona, la miscia, la leccia è l'oltrezza, Non ci sono le tante con il plato, ma sono diversi costanti, come per esempio, oro, un sapato rosso un po' più scuro, un sapato di collo con la corda, un occhio con lo che ha fatto il bici e ha fatto il sentimento buono. Diamo paia, diamo come una scho, che mandi fasionista, noi fasionista non abbiamo un tip, ha fatto il centro e arriva, lo che ha fatto in casa, lo che ha fatto in casa, lo che ha fatto in casa. Grazie. Nostra abcnici, con un traje rosso clà, estente, picchio cappone, a nocci, anche il colore è clà, ma sobra, è un hobby estente per voi, se vuoi fare un mercato, un almercio di compagnia. È un hobby estente per le ore e i. Mio, vuoi pensare a un comienzo a nocci con i miei compagni, un amico non, non c'è tanta riunione con la famiglia, vuoi fare cena di navidad, a nocci, un camindale, vuoi fare un'altra famiglia, quindi è largo, è bonito, è elegante, quindi la combina con un sapato, vuoi fare un'altra roba e finis. Se vuoi fare una scena, sicuro vuoi fare un'altra roba, non rende per la bici, vuoi vestire un uashi, va fare un'altra roba, roba nice. Ma nemmo avvisavo, mi ti è di Fragantica. Fragantica è un po' più nuovo, che è 13. La fragancia è molto dolce, è molto dolce, è molto dolce, come la città, la città è buona, e la città è buona, 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 ma sobra, è un buona un po' più economico, e il buona è buona, ma sobra, 20 florini, vedi, 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 e questo è durato 6 ore o più. A me scopriare il rouge, il numero 597. Ora vedi la Fragantica, vedi, 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 il rouge 597. Naturalmente, ho più di 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 più, anche per i più di più. Vedi la Fragantica, qui è in Peter Mai Mall, di un'unità 19-10, di immigrazione. Fragantica, è una frazione, wow! questa è una domanda, ovviamente, non possiamo esque deposito di questa domanda, ho un'unità di più di più di più di più che, è qualcosa che soltanto buona! solo per esempio, con le vedi sono più di 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 più. come come l'obbio con un paesino, è un piccolo di più. Guarda e paia per la occasione, non è occasione per la paia. E' questa è basicamente per una riunione tranquilla, amistosa, ma non per un recepso. Gemsup è qualcosa che ti ho trovato. E'na trovi. Ancora ne non sabi sa Cava, Dei programma na anterior, Bupur awa e se, Hopi. E sakin'e di animal prenting, Hopi great means. Eta preto un tiki sexy, Patras e tala lomba fo. O per visti ako un sapato full preto, Un sapato co tingde, E colo di animal prenting, Un nuke, Un krem, Un marron. Aboto di se di, Korda in emoe, Timbe, Bota kumpra un paia, Bota buy caso, Un ako guasasori ng changeable look, Bo make-up di Maybelline, Semper takeda wong, Anto, Bota sali on top, E di anani fiesta ati. Nos hain ilegal pa a París? Mi t'espera si, Pasobra eto soño, Di nos turco mojende mojil, Ciudad Luz, E ciudad di Aromana, Dienan nos hain a fragantica, Un compagnia, Puta encerratura, Ciudadland di Francia, Ku, Diferente aromana, Bota rainha, Bota choice, Bota ciudad, Anto, E aroma, Co bokeh, Inna presentaion, De 60 mililitro, Anto, Robi econonico, 20 florin, Pa botan, Anto, Tum botella, Bonita, Que bokeh, Bota in botas, Gorda, Bopor, Uno, Pa cada dia, Di siman. Na fragantica, Bota nye, Aroma, Estupendo, E color, Nankita lagabo, Keda ole, Wow, Eta baiting turco, Escuta bai, Kutis, Boti un, Un piel, Kímico, Eta bait, Eta ayuda, Ej, Mami, Ej, Papi, Bosa anche a su regalo, E saci tesco, E dushi, Bokeh regala, Algo, Boudicare, Zvon, Algo, Comun, Algo, Kuta, Un preis rei de luk, No Doris, Kuta balco, E saco, Nota bai forza, Akibomesteta. Doris, Amiti miux. Amiti, Chapijon, Eta floral. Popidushi. Masadushi mes. Doris, Basintiolo? Claro que si. Akibomesteta. No duda, Pasa, Busca, Dibo. Amiti un bita drug, Però mi no porqueda sin darmi coffee, Siete donami energia, Ossina, Mi porpassa, Dordimi dia. Marten Trading, De representante di Nescafe, In Awe, Mi devei disfrutar di un mocacino. Busca buon Nescafe, Naturbon supermercado, Dieta di Marten Training. Salud. One morning, Peter walked out to find every flower that he never stopped to notice, every sunrise that he never watched, every football match he forgot to play with his son, and arrived at the cafe to find every conversation he never had with his father. And it was only then that Peter finally decided to wake up. Wake up to life. Nescafe. Nestle. Good food, good life. With all the people who participate in the competition with the Nescafe in the radio, we will give you the award to the Mabelin, Mabelin, which is a brand of makeup of Curacao Pharmacal. Buona notte, televidentina, maniera nostra vita, fashionista, ta cumpri. Abbiamo un programma, nostro è un felice ganador, Hislain. Ela contesta, nos pregunta, bo, bassana, in rádio turco, nostro è tenuto Maybelline a regalare un tremendo make-up tassi. Dengie, ti basta cosa, non se la, è messa, rummista, Dengie. Grazie, grazie, grazie. 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 Luego de que ya tienes todo aplicado, labios, cejas, bronzer, pómulos, rubor, base, entonces vas al paso final, que es el toque final para el maquillaje, los labios. Ayúdate con un poco de base en los labios, esto va a hacer que el labial, el delineador, duren por más tiempo. Comienza quindi delineando con un delineador di labi abbastanza oscuro in la parte di afuera dei labi. Aiuto con una broca sintetica e applica un po' di correctora nel medio. Voy a utilizzare uno dei nuovi colori di Blur di Maybelline New York, Color Blur. E' super facile per utilizzare e anche la instruzione dei looks che puoi fare con il labi abbastanza oscuro in il mio compagno. Oggi ti insegno il l'ombre, però qui tiensi un altro look, così buscala per che sepas qual è. E listo, tiensi un l'ombre look con 2 color braille di Maybelline New York, concealer, un look trendy, lo ultimo che sta passando con i labi abbastanza. Feliz Vida Entenang! Lamentablemente non c'è un altro final del programma passionista na vista. E' penultima edizione e qui nel mese, la nostra despedida di Bocsone e Amma Bocsone. Feliz Pascua, Feliz Ano e Novo Dicone. Poi c'è l'ultima edizione, l'ultima resumo. Offenadores! E' da Bocsone Tour, mi ti dici un Feliz Navidad a tu corda. Non sempre c'è la nostra disponibilità di Bocsone, ma ora voi che un consejo, un tip, voi che chiamarmi, ma voi che chiacchia, voi che vai visitare la Bocsone, voi che facciare la tour di Bocsone e Amma Bocsone. A me con Nina è disponibile per Bocsone. È un piacere di essere qui, con un fashionista na vista, accompagnare tu, mi Pueblo di Corsò, e' un bonita programma, curta algo, cominciare, con tu gente che enjoy. Vosani è molto valioso, vosani facendo di tutto, di make-up, di cabello, di paia, di tutti cose. Vosani è un piacere di Bocsone, ma voi che ci sono fiei seguitori di noi. Grazie a tutti per te conoscere qui. Vosani è un Dio che ci aspettano a trovare qualcosa di nuovo, sorpresa di nuovo. Vosani è un Dio che ci aspettano sempre. Vosani può contattare con noi qualche tip. Vosani può contattare con noi via Fashionista na Vista, Dio su Facebook o di Ammi. Grazie per sintonizzare con noi, e ci aspettano con noi per la tua edizione. Doi, doi! Ciao! 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 Ciao!